Girate, 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 vai, vai, sotto bravo, mette, gira, e gira, fidatevi che è una cosa bella, vai, è una cosa bella, vai che buona, vai, gira, vai, vai, ma che bellezza, guardate che scusa. E stop! Adesso mettetevi uno di fronte all'altro, di fronte, e dobbiamo fare una cosa che di solito fanno i brasiliani quando fanno i balli di gruppo, che dicono, ah, sì, ci vedo, ah, ok, di fronte ci dobbiamo mettere, noi siamo italiani, brasiliani, qualsiasi cosa fanno, faccio il burlù, non capire perché loro lo fanno, lo faccio, anche noi italiani lo facciamo, ci mettiamo di fronte, e andiamo direttamente al sodo, e al ritmo di musica dovremo fare questa cosa così. Ci siamo? Pronti? Dai, dai, andiamo, signori, andiamo. Un, due, tre! Ok, adesso viene il bello, ritorniamo sotto braccio, ma, scambi le coppie, scambi le coppie, scambi le coppie. E andiamo di fronte, andiamo! Guardatevi negli occhi, siate romanti, scambi le coppie, scambi le coppie, scambiamo ancora una volta le coppie, diamo! Un primo che è presente, vai sotto braccio, spanno, come bene, vai, capisco la volta a pulo, vai! Essa bacia si sa congelo pure l'avidio, se la serca ci ha, che la matia, è la matia, è la matia che la picchia di un'az μια, la frusca secca vai di fronte vai guardatevi negli occhi siete romanticissimi scambiamo diamo diamo cambiamo mischiamo siamo nel 2016 cercamela bene E' la tattia sulla scienza con la rete A che c'è la bella che la camminata Misa la stretta C'è la cadetta, c'è 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 Toma, Toma, Toma E' il vento in pratica Già fatta per te l'uviore Buonasera signorina E di che se fa 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 Guardatemi negli occhi Questa è l'ultima Andate a recuperare l'originale L'originale L'uomo in vita Recuperato in qualche modo Questa è la più importante Recuperiamo Sottofra Sottofra Questa è l'ultima Questa è l'ultima Non si sbaccia La braghetta La braghetta Malata mia Ma se ne sei E di che se fa E di che se fa E il giampo in swear E la braghetta Sottofra E il giampo in swear E di che se E il giampo in swear ma dobbiamo far sentire quanto casino facciamo ai grandi ok siamo pronti? tutti i bambini tappiamo le orecchie e urliamo i grandi invece devono pensare sempre i bambini pronti i bambini? a tre urliamo uno, due, tre e dare il peggio alla mano